allora c'è da fare una doppia analisi di questa partita la parte appunto var e arbitrale e ovviamente la parte che quella che mi interessa di più e penso che deve interessare di più a voi che appunto l'allenatore la squadra allora partiamo subito dalla cosa più semplice il var e la parte arbitrale allora il calcio di oggi è veramente al crepuscolo va verso la morte perché un calcio dove tu esulti e credendo di aver ribaltato una partita giocata malissimo noi un guardabile questo poi ne parliamo un attimo fra poco e poi però il var qualsiasi cosa accade c'è check bar fuori gioco rigore possibile penalty fallo di mano tutto un miscuglio di cose e qui non è un discorso a favore o contro proprio un discorso che non è più calcio questo questo qua è uno sport televisivo uno sport dove una partita arriva a durare come questa sera 100 minuti cioè praticamente un tempo un tempo supplementare di recupero e lo streaming altra cosa penosa io sono in live dove ringrazio questa sera 1720 persone in live 1720 persone in live i miei compagni di avventura esultano prima di me ludovico poverino non sapeva neanche cosa è successo c'è lo streaming che in alcuni posti avanti 10 secondi in alcuni indietro 20 è una roba vergognona questo non è calcio il calcio è bello se si vive in diretta se si esulta tutti insieme e questa appunto è la mia tristezza grande a livello diciamo di tifoso poi c'è il discorso invece di del mio lavoro di giornalista youtuber l'analisi sulla partita l'analisi su quello che ho visto questa sera questa sera io ho visto l'epilogo di un allenatore che non ha idee di un allenatore che non è capace di allenare un allenatore che non propone calcio un allenatore che è solo capace di fare battute oppure addirittura si sente veggente no perché adesso molti molti idioti diranno aveva detto che la partita con la sedernitana era difficile proprio perché l'aveva detto doveva essere ancora più accorto proprio perché l'aveva detto doveva essere più accorto caro massimiliano allegri io non dico allegri out io non dico cacciatelo io spero soltanto che un giorno una mattina una sera un pomeriggio agnelli o elkan soprattutto elkan perché agnelli faccio molta fatica a pensarlo alzino la cornetta chiamino allegri e gli dicono vieni per cortesia in società che ci dobbiamo parlare e lo cacciano via appedate nel culo perché io sono convinto che fino a che sulla panchina della juve siederà questa persona noi faremo fatica faremo tanta fatica ad arrivare nelle prime quattro in italia e a mio parere la juve vista nell'ultimo periodo di quest'anno e l'anno scorso farà fatica a vincere addirittura a pareggiare col benfica faccio notare che se dovesse capitare che non vinciamo col benfica noi dopo due partite abbiamo già un piede fuori dalla champions league non c'è bisogno di perdere perché se perdiamo col benfica è ovvio che siamo fuori in questo caso chiamato rino ma se dovessimo pareggiare dopo due partite abbiamo un punto quindi signori cerchiamo di essere onesti obiettivi io non mi rivolgo a coloro che difendono allegri perché ormai queste persone qui sono sole nel deserto oppure sono su una zattera alla deriva dei flutti degli oceani perché è indifendibile allegri quindi non c'è bisogno che max montaina o altri youtuber o altri giornalisti o altri opinionisti dicano quello che pensano di allegri allegri non è un giocatore non è un allenatore all'altezza di allenare una squadra di calcio come la juventus io credo che in questo momento allegri non sarebbe neanche in grado di allenare il laiaccio il pizzighettone il livorno cioè per me allegri non è più un allenatore se mai lo sia stato lo è stato non è più un allenatore perché fa delle cose lo sanno anche i sassi che ken è un giocatore vergognoso imbarazzante e non voglio anticipare le pagelle lui però continua a ostinarsi tu fai turnover con la salianitana perché perché tu sottovaluti la salianitana e la salianitana ti castiga la salianitana ti castiga ti castiga signori noi abbiamo fatto due a due perché i giocatori hanno messo cuore hanno messo voglia hanno messo corsa e hanno si sono buttati a troppo tardi ovviamente in avanti avevamo anche fatto il 3 a 2 il regolamento parla chiaro se c'è anche un centimetro più in là è fuori gioco bonucci purtroppo aveva la gamba e quindi hanno dovuto all'onore gol di milic però una cosa è certa la juve che si fa prendere a pallonate da chiunque giochi contro di noi e dico chiunque dal pari come dalla salianitana credo che ci sia una differenza abissale fra il pari saint germain che ha nelle sue fila neymar mbappé e messi e tanti altri e una juve e un salianitana che ha degli emeriti sconosciuti a parte candreva che c'ha 80 anni per gamba ex giocatori di ex squadre quindi discorso è molto semplice parlare di juventus parlare di analisi calcistica della juventus è un esercizio improbo perché la juventus non ha idee la juventus non ha un gioco la juventus non ha un allenatore la juventus è una cozzaglia di uomini alcuni molto scarsi ne parleremo poco calma nelle pagelle che vengono messi in campo alla carlona da un allenatore che crede di essere un grande allenatore invece non è neanche un piccolo allenatore è veramente in nulla nel suo mestiere strapagato da una società che a questo punto bisogna riconoscerlo ha vinto nove scudetti perché le rivali storiche milan e inter erano sul ruolo della bancarotta e le nostre rivali sono state rome napoli che nella loro storia hanno vinto cinque scudetti in tutta la loro storia appena lei milanesi sono tirato fuori la testa la juventus è tornata ad essere quella che è da quando c'è agnelli una squadra mediocre costruita male e gestita malissimo l'illusorità dei nove scudetti ci ha fatto credere che fosse un grande presidente e che fosse un uomo lungimirante e invece è un ripiccoso un presuntuoso è uno che di calcio capisce poco e quindi che dire signori belli ci dobbiamo tenere questa juve sappiate che questo è l'inizio della fine perché la juventus salvo miracoli ovvero esonero di questo pseudo allenatore di passi in avanti non ne farà questo è il mio epitafio a una juventus vergognosa perché ripeto anche sul 3 a 2 segnato da militi illusorio poi hanno notato dal var io dentro avevo il cuore triste spezzato perché questa juventus mi fa veramente schifo buonanotte per chi vuole ci sono le pagelle